www.mesmerism.info www.mesmerism.info che inquadriamo mentre vediamo in Manchester high per l'attacco con caporusso fa la buonaguardia la difesa rimessa dal fondo per l'università de banana Antonielli alla battuta va a lungo interviene di testa Citro prova ad alimentare l'azione dei suoi ma non c'è nessuno a ricevere il suggerimento sanno ancora rimessa dal fondo Antonielli gioca per Pelliccia Pelliccia ancora Si mise sulla sinistra, prova il destro di poco a lato C'era comunque Cerrato sulla traiettoria Cerrato gioca vicino per Citro Citro ancora dialoga col portiere Che va a lungo a cercare dell'acqua, dell'acqua Stoppa dell'acqua, se l'alza Dell'acqua riesce a tenerla, non c'è fallo La guadagna rimessa dal fondo Vicino per ancora la palla sulla sinistra Il destro costrato da De Giovanni, sarà calcio d'angolo Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento Va Pelliccio alla battuta, forte Sul palo, la palla si spegne sul fondo E sul puntiggio di 4-1 interrompiamo il nostro collegamento Salutiamo Persico e Pelliccio Rispettivamente l'uomo assist e il bomber Della squadra di Università del Banana Che quest'oggi hanno vinto per 7-1 contro Manchester in Euro Diamo prima la parola Pelliccio Dicci insomma un tuo pari su questo match Soprattutto quanti gol per te oggi Non ricordo se due o... Quanti ne ho fatto? Due ne ho fatto Due, due su assist Sì, infatti assist 4-5 assist sentiamo la prima partita di Persico 6 addirittura Non è un assist, sarei rubato Persico su una lotta C'è da dire che per la prima volta in questo torneo Dominiamo una partita vincendo Le altre le perdiamo dominando Quindi solo una partita abbiamo perso meritatamente contro i frustrati Quindi doppia soddisfazione diciamo Mamma mia, tantissima Nonostante come tradizione abbiamo preso 32 pali Nonostante per tradizione abbiamo preso 32 pali Nonostante per fare, vabbè Siamo una squadra che prende pali Ho preso 4 solo io eh 4 pali da solo Record vero I miei complimenti più vivi Un tempo... 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 Possiamo fare buoni e donne in un'altra sede È un piacere, questo è il controcampo Grazie Grazie a tutti Buon Natale E in bocca al lupo per il progetto del torneo Grazie a tutti